Per quanto riguarda il Bistrizza e ancora viene saltato su Ricano l'attacco di Lazar e c'è il gol del Bistrizza dopo un-due primi e 45 secondi. Incredibile azione d'attacco della formazione rumena e Fiorentina che va subito sotto. Una Fiorentina che doveva cancellare il 4-2, l'infelice prestazione di domenica scorsa con il Vicenza ed ecco invece il gol che porta in vantaggio il tocco per Rui Costa. Rui Costa che ha sempre dei problemi fisici ma cerca ora il tocco per Battissuta, la palla è buona e il gol anche, il pareggio di Gabriel Battissuta. Due primi esatti nel corso della ripresa e l'usa la tattica dell'offside da parte di Battissuta che è riuscito quindi a incunearsi sul perfetto tocco in profondità da parte di Manuel Rui Costa e l'argentino non ha perdonato il pareggio di Battissuta ed anche il primo gol di Battissuta nelle competizioni europee. Rivediamo, parlavamo delle difficoltà... Rivediamo, parlavamo delle difficoltà...